Il quadro della situazione economica a Teramo è preoccupante, le tasse aumentano e il Comune spreca soldi. Alla vigilia della seduta del Consiglio Comunale, prevista per domani, il capogruppo del Partito Democratico, Gian Guido D'Alberto, mette sotto accusa le spese dell'amministrazione, dichiarando fallimentare il bilancio del Comune di Teramo. Domani verrà approvato il primo bilancio di questa giunta ed è già un bilancio fallimentare, un bilancio di previsione che mette in evidenza nuovamente un incremento significativo delle entrate, quindi a discapito dei cittadini, soprattutto delle famiglie più numerose. Basti pensare alla scelta di questa amministrazione di mettere la tasse con le aliquote massime, la nuova tassa che incide fortemente sulla prima abitazione e soprattutto sulle famiglie numerose, contrariamente a quanto noi avevamo proposto in relazione all'applicazione di detrazioni vere e non irrisorie come quelle che sono state applicate dall'amministrazione. Ma soprattutto a un aumento delle entrate si contrappone un incremento anche quest'anno della spesa corrente. Questa amministrazione continua a dimostrare tutta la sua incapacità a gestire la spesa corrente, che poi è il vero vulnus di questa amministrazione, perché noi ci troviamo in una realtà nella quale, nonostante abbiamo le entrate praticamente al massimo, l'incremento della spesa corrente non ci consente di coprire di fatto il bilancio. Abbiamo bisogno poi di applicare i cosiddetti oneri di urbanizzazione, una quota della Bucalossi per riuscire a coprire il bilancio corrente. Questo è soltanto uno degli aspetti fortemente critici di questo bilancio, che evidenzia ancora la scelta di questa amministrazione di mettere in ginocchio, in difficoltà le famiglie, aumentare le entrate a discapito di servizi che invece vengono costantemente ridotti, basti pensare all'aumento dei buoni mensa e del servizio di trasporto scolastico. Indubbiamente noi ci opporremo fortemente a questo bilancio di previsione, ci auguriamo che anche altri componenti del Consiglio, non solo di minoranza, facciano una valutazione critica e negativa su una scelta amministrativa in materia di gestione di entrate e di spese che è decisamente fallimentare.